Sono Leo. Tu devi essere Nancy. Vengo dentro? Sì. Ho fatto una lista delle cose che mi piacerebbe fare. Numero uno, io pratico sesso orale a te. Numero due, tu pratichi sesso orale a me. Numero tre, facciamo un 69, non so se si chiama ancora così. Quattro, io sopra. Cinque, da dietro. Sembra tutto abbastanza fattibile. Ho prenotato il tempo giusto. Vuoi fare tutto questo oggi? Sì. No. Non ho mai avuto un orgasmo. Ci sono suori che hanno più esperienza sessuale di me. Imbarazzante. Vuoi che mi la videnti? Oddio, questo è folle. È terribile, è sbagliato. Nancy? Sì? Vieni a ballare con me. Ma se la persona non ti piace, insomma, come riesci a farlo? C'è sempre qualcosa che mi piace. C'è qualcuno? Una persona speciale, una in particolare. Una oltre a te. Ah, smettila. Non ho mai fatto niente di interessante nella mia vita. Sei l'unica avventura che ho avuto. Avrei potuto fare altre cose se non fossi stata madre. Quali, per esempio? Attraversare il deserto a cavallo? Fondare una colonia di artisti su un'isoletta tropicale? Avere un orgasmo? Tua madre cosa pensa che fai? Che lavori su una piattaforma petrolifera. Sì, una piattaforma nei mari del nord. Mi sono sempre vergognata del mio corpo. Hai un corpo bellissimo. Dovresti vederlo. Rivolgo i tuoi sedici anni. No, non rivolgo i miei sedici anni. Voglio la sensazione di avere sedici anni. Quanti anni aveva la più vecchia con cui l'hai fatto? 82. 82? Sì. 82? Nancy? Ok, mi sento meglio adesso. No, non rivolgo i tuoi.